Buongiorno, mi chiamo Anastasia e oggi volevo girare il video di come sarebbe la mia collezione di trucco senza tutti i regali. Prima di tutto parliamo di profumi. Ho quattro profumi e noi vedete solo tre perché uno è in borsetta e uno mi è stato regalato. Parlando di balsami per le labbra ne ho nove e uno è stato regalato. Parlando di scrub ne ho uno che è stato comprato da me. Parlando di smalti ne ho sei comprati da me e undici regalati. Parlando di prodotti per le labbra. Di luci da labbra ne ho tre comprati da me e tre regalati. Dieci rossetti comprati da me e ventisette rossetti regalati. Un lipliner che è stato regalato e tre lipliner che sono stati comprati da me. Un prodotto per le sopracciglia che ho comprato io. Parlando di occhi ho cinque ombretti singoli qua e tre qua e sono tutti stati comprati da me. I liner per gli occhi. Ne ho uno eyeliner liquido comprato da me e un eyeliner che mi è stato regalato. Mascara. Due mascara regalati e un mascara comprato da me. Palette. Cinque palette che vedete qua più una che sta arrivando oggi. Gli slick con un bello specchio di cui sognavo da molto tempo. Quindi sei palette totali comprati da me. E dieci palette piccole regalate. E tre palette grandi regalate. Parlando di matite per gli occhi. Ne ho sette che ho comprato io. E quattro che mi sono state regalate. Parlando di prodotti difficili. I blush. Ho sette blush comprati da me. In questa palette ne ho due. In questa palette ne ho due. E poi tre sfusi. Ed i blush che mi sono stati regalati ne ho quattro qua. E sei qua. Quindi in totale dieci. Gli illuminanti ne ho quattro. Uno è stato fatto diciamo diventato crema. Perché l'ho mischiato con una lozione. E poi ho questo illuminante di al verde. Che non utilizzo più come illuminante. Ma come base per ombretti ogni tanto. Di bronzer ne ho due. E sono tutti e due stati comprati da me. Di fondocinta ne ho due. E sono tutti e due stati comprati da me. Di correttore. Ne ho uno. E sono stato comprato da me. Di ciprie. Ne ho tre. Che sono state comprate da me. E quattro in questa palette. Magari qualcuno di loro diventerà bronzer. Totale. Ventotto prodotti. Che mi sono stati regalati. E 82 prodotti che ho comprato. Quindi totale 160 prodotti. Questi sono diciamo i miei numeri all'inizio del no buy. Come vedete metà e metà. Grazie dell'attenzione. E' un video interessante. Mettete il like. Qui è. Ciao.